Allora siamo arrivati all'ultimo giorno del trofeo Sofia siamo qua con Giorgia Speciale ciao Giorgia, raccontami un po' la tua medal race. Allora la medal race sicuramente adrenalinica e breve breve ma intensa. Ho fatto una partenza fantastica molto buona sul pin già prima di partire con il mio allenatore Riccardo Belli avevo dichiarato, ho detto il pin mi piace sono convinta, vado uso il mio timing, il mio tempo e la mia accelerazione. L'ho fatto e mi è riuscito quindi sono stata nei primi due, serviva essere nei primi due fino alla fine ma all'ultima bodypop mi ha superato la cinese quindi purtroppo ho perso l'accesso alle semifinali ma sono soddisfatta mi tengo al mio sesto posto e è un buon inizio per questa stagione. Dammi un po' un tuo bilancio appunto di questo trofeo Sofia e della tua preparazione invernale? Allora bilancio della preparazione invernale sicuramente positivo perché ho messo appunto molte cosine come ad esempio la bolina convento un po' più forte o le partenze slalom convento più sostenuto o ad esempio sì queste cose le partenze in generale, le manovre. Invece per quanto riguarda il trofeo anche qua il bilancio positivo con alti e bassi perché ho commesso degli errori anche in questa regata ma sicuramente sono state più le cose positive questa volta. Sono riuscita un po' a far funzionare tutto. Occhi puntati sulla Grecia adesso? Sempre. In bocca al lupo grazie mille. Grazie mille.